siamo nel troppo non è avviato sì che ho avviato sto ongolo ciao a tutti sono sì che stiamo nel suo cuore fiore si falco e questo è il mario kart la nostra maratona di mario kart che non so come si chiama meno 2 in questo video di se vedete il trofeo fiore cioè non c'è scritto trofeo fiore nel trofeo fiore perché gli stiamo facendo non dire abbiamo finito il trofeo fungo ed ix e primo no ed ix no ma io la vedi quando dice la presa paramo arriva falco ed ix ciao 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 taglio tantissimo e in questo questa serie vi faremo vedere anche tutti i tagli possibili perché capiteranno sicuramente guardate ciao ciao e credo che vediamo questo episodio che odiamo di più la pista al compagno è uno spazio che il percorso che odiamo di più di x a parlare no è nel trofeo e vede questa moto facendo qui scopo non c'erete parecchio ma pupami la fama no 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 ma che cazzo di stavo dicendo il trucco quando giocate con gli altri e che per macchere tazzo e noi di darmi chiare gli aspi computer della vita che ti sembra una nuvoletta nuvoletta ok ma fa un culo non ha fatto il culo c'è mi sa che dix mi superiore ma lei è male forse e mario cast impossibile fare pronostici perciò un bel gioco succede tutto oddio mi ha schiattato boba un figlio non pensavo che ha finito e la seconda ottavo ho fatto come si con il pallotto mi sa che dix mi ha superato piazza alpene sono terzo o dix toad e sono quarto toad che supera falco e stonno che ho detto cosa voleva dire dix però toad supera falco e stonno hai detto con col tono tipo aria di superiorità ora dix deve diventare quarto sono ma non è un quarto è inutile che vi applicate tanto comunque non è che vincerò io lo sappiamo tanto comunque sono partito come suddicissimo se fallo no 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 ma facculo ai si troviamo usare a guarda io che faccio volevo dire una cosa importante hai fatto allora vi ringrazio veramente molto per tutto intendevole attività che sapete avendo sul nostro canale avete avendo state apprezzando il nostro lavoro sia quello fanni sia quello che sia quello di falco che è seguito senza motivo a mio avviso quindi vi ringrazio perché falco fa video brutti lo dice 12 falco che no io non faccio video però io non mi giochi di video e area di superiori pezza vi ricordiamo del fatto per la stand lanciato da dex che sta andando benissimo mi piace un sacco la mia iniziativa mi spagno mi piace la sua iniziativa no no mi piace come sta andando nel senso che la gente ha preso il mio cubo la gente veramente sta partecipando in una pagina bellissima e la cosa mi fa piacere perché stiamo creando qualcosa di veramente di capire e banale salina me la corte 3 mi arrivato a un bus arrivando un guscio più per lanciato io giuro è lo primo da tutta la pista io finisco come il pizzo di xx e non la ciccia la cizza piena stavo citando caparezza giù le pizze c'era la pizze a cena mi sono bloccato mi ha fatto venire dal di questo diventò paga allora deve sapere che super mario è uno di quei piccoli come faccio a cavalli non è fatto c'è non puoi fare io sono fatto faccio le put falco vuoi che ti uccido tot no c'è una nuvoletta già diversi vogliono bloccato aia aia ora falco supera dick no chi sono tante banane e non lo so perché non ho nessuno superarsi o perché il cavallo però c'è un pene della mazzalla e falco risposta di a quel paese vandate a quel paese vandate a quel paese vanda e coso è da giusto questo di ragazzo a stiamo superando ma tornate l'ultimo anche prima aveva 50 punti ma fa così girato il cappello e come lo fa adesso ma questo è l'ultima vista guardate sia l'applicato che copia falco che falco perché c'era scorso diciamo che se giocate a mario cazzo il collo di dicks comunque no tutte e tre banane si è fregato e a me è successo così e poi mi arriva di un buccio rosso bene no e poi sono arrivato primo perché allora qua c'è una scorciata guardate falco adesso che la prenderà no vabbè col coso però no più oscurato falco la prende anche dicks la prende al contrario la prende comunque fa che mi ha insegnato benissimo questa scorciatoia a fuga di giocare di perdere ho imparato che questa è una bella scorciato e da prendere se non la prendevo falco me lo vedevo camocchiale perché taglia veramente un casino e non è l'unica in mario kart che taglia un casino l'unico sempre non è l'unica l'unica scorciato ma mi spetti di prendere per questo rispetto mi smetto no ma sentiamo tutto il volume e quindi lasciate un mi piace come faccio essere quarto come faccio lasciato mi piace se no avete un dick scrivete cielo di commenti non direi che voi siete no no dicks no dicks non la smettete di tirarmi così no perché mi sento perché così non lo prende in buscio ma ti prende con quel buscio hai visto che ha fatto si è bloccato si è impantanato no bellissimo ma non ti ha preso ma chi no si è impantanato a terra cosa se riesco a metterlo prima del mondo è prima se riesco a metterlo prima del montaggio lo faccio dire si è impantanato a terra l'ho visto che no ciao e ciao mentre visto non mi arrivo tanto che arriva anche dopo un altro show blu per di questo non me lo puoi fare fa cosa dico dai dice ah ma io guardo mario cioè io penso che fa con il mago no e ma che cazzo e ma fate le puzze tutti quanti e ne succede a mi siete qualizzati per fare le puzze su dicks no altro che frank matano dove ha detto come di merda mi faceva cadere perdevo tu dai mi questo mi fa in parte ti posso zuppare nell'app no 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 e prendola al banana zeh prendola al banana eh prendola del banana decimo stonno prende il power up arriva più tardi di quando lo aveva premio la test passa di nuovo la piazza di monta e stonno superato anche arrivato il nuovo ultimo la prossima è la prima che prima c'è superato prima era primo che se l'ultimo è l'ultima pizza di sì l'episodio comunque falca sta facendo finta di essere quello scarso in modale che abbia qualche speranza di vittoria così dopo rimonta alla fine fallo vabbè ma questa pista di dix arriva o undicesimo dodicissimo dipende da cosa fa scuola stuola che ha detto no non è vero arrivo dolcesimo sono caldo taglia il pene ho fatto un taglio inutile è stato di schiagno la vita però l'ho fatto questa di solito cado sempre qua questa è un pene alcuni che sono inutili e c'è una scorciatoia ho preso dix sono un fenomeno ho detto sempre do di sono un fenomeno e ho preso dix come faccio ad essere secondo quello il nostro amico seccato sono un fenomeno vabbè una cosa è prendere dix con un guscio frecciatina a falco da parte di storia è bello che con il guscio verde ha colpito dix senza più c'è rosso non ho preso copa che l'avevo a mezzo un chilometro ma come primo ma che cazzo c'entra copa la versione di dix con gli occhiali non sapete di cosa sto parlando a non avete messo i cinque mi piace che mancavano al video della seconda parte di giano all'acqua quindi non potete vedere terzo episodio di giano l'acqua e invece è già usi falco dove sei al primo non ho detto tu chi sei dove sei primo ha ascoltato io non ho presa perché c'era il carrello che mi faceva pensare non ti dovresti preoccupare del carrello quando prende a scocciatore no non è caro dovresti sapere ah ok non la prendo dix e questo è l'ultimo giro dovevo prendere la scorciatura e c'era un cazzo di bello ma dai era per dix hai spianato la strada per falco quello l'avevo fatto apposta per me così la prendevo e lui si prendeva due a scocciatore no 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 qua non si può proprio visto a me dove mi ha preso grande il salto che mi ha preso nel fallo il salto no tod ma poi devi sempre ultimo adesso devi compiere il cazzo al medico famiglia il medico a medico perché non cado da dix qui con la mia banana non posso imitare il gesto perché se no cadere e guardate qui la fissura del pro il retromarcia sbattendo conti un palo un valo e dix non potrà mai fare ok è anche incredibilmente dix e primo però falco si rimette il cappello normale perché ha fatto la sua gara da pezzo e stone arrivato terzo come ha detto all'inizio vedete uno più due terzo ma stai a metà puoi ancora arrivare l'undicesimo usano un po ci giù superare bo dai cira per una sola estra ciao falco e quindi siamo arrivati alla fine dobbiamo chiedere per forza perché c'è uno che sicuro della parte se non ci danno i big money di mettere mi piace di scrivervi al canale e fare tutte le pulse che potete fare il cappello ma non dovrei mettere il commento di oggi fatto con cosa devo commentare il dix è scemo ma se c'è un falco a fiocco il canale commentate con quest'opinione di falco molto filosofica è stondo che ci dici tu è anche questo cercando di limitarlo con un commento quindi ci vediamo nel prossimo trofeo nel prossimo episodio tutto ciò che dovete fare aspettate ciao